Miss Finesse, c'è proprio altissimo livello. Ma io so essere un po' tutto, so essere elegante, oscena, educata, maleducata. Io, Betta, a me mi spiace. Qui sei caduta veramente di livello proprio. Ma parliamone però. Qui sei caduta veramente di livello. Aspetta, aspetta, tu sei venuto, eh. Sei venuto qui. Io, guarda, a me mi ci hanno portato. Però se dobbiamo indigare non mi piace. No, non ho chiesto un confronto con te, non me ne poteva fregare di meno. Ok, però hai accettato. Ti ho già inquadrata da subito, Marina, la rosa. Ma perché ce l'hai bevi con me? Quindi, ti ho offesa io? Ti ho offesa? Mi hai dato dell'ebete? Ti ho dato dell'ebete? Complimenti. Ma scusa, ma ti sembra normale che tu mi dica sei una stratega e c'hai il cane da riporto? Sei una stratega. Come ti viene in mente il cane da riporto? Non sapevo manco cosa. Perché una che dice a Joe, non ti ho scelta, ho preferito Luca, perché se no tu avresti scelto il Betta, vuol dire che sei una stratega, Marina. Sei una stratega. Allora, se questa è la strategia di cui fare... È una strategia, perché te hai preferito Luca, per cosa? Perché avevi sia Vittoria che Virginia e Luca il trittico da poter gestire e manipolare? Benissimo. Vuoi parlarne o fai il monologo e io erano? No, io guarda, sono quello dei reality, quindi parlo il mio monologo dei reality. Comunque ti volevo puntualizzare che nella vita faccio anche altro. Ma lo so, lo so. Ho giocato 17 anni a calcio, capisci? E non faccio solo i reality. I reality li faccio per divertimento, per smascherare quelle come te, che giocano. Grazie. 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 Grazie.